Mi chiamo Sara Casiraghi, sviluppo e apparecchio progetti legati al cibo. Dal 2011 ho iniziato questo progetto gastronomico che si chiama Pentola Pressione, in cui sto rifacendo tutti i piatti del Talismano della Felicità, che è uno dei primi libri di cucina italiana, la prima edizione del 1925, scritto da Ada Boni. E all'interno del libro e tra i desideri della Boni c'era quello di scrivere ricette di tutta Italia e non solo, per fare in modo che la cultura del cibo diventasse patrimonio di tutti. Il cibo inteso come possibilità di dialogo, di scambio intorno alla tavola, di condivisione. Pentola Pressione, appunto questo progetto che è iniziato nel 2011, e io sto cercando di condividere i piatti del Talismano della Felicità con il maggior numero di persone possibili. Le ricette sono più di 2000, finora ne ho fatte all'incirca 1700. Per qua a Bolzano, a Lungomare, ho pensato di sviluppare un progetto che si chiama Bolzano Caputmundi e per festeggiare i 10 anni di Lungomare ho scelto ricette che nel titolo avessero una diversa provenienza e che venissero da tutto il mondo, in modo tale che tutte queste ricette provenienti da ovunque venissero anche loro a festeggiare i 10 anni di Lungomare. Ricette italiane, del nord e del sud Italia, ma anche ricette da paesi stranieri, dalla Francia all'Egitto, dal Messico come questa sera, o la Savoia che insomma è comunque una regione. Per questa sera avremo un'insalata siciliana, delle zucchine farcite alla Ligure, una zuppa di cipolla alla francese, le lasagne alla napoletana, trotta alla Savoia, maiali messicani e pesche ripiene. E spero che appunto, grazie all'assaggio di queste ricette, ci sia una buona condivisione poi a tavola e uno degli intenti del talismano della felicità e dell'assaggiare e del condividere tutte le ricette del talismano è proprio quello di avvicinare le persone e la felicità. E mi auguro che anche in questo caso funzioni. Buon appetito a tutti! Grazie.